Solo vedere ma anche praticare o farsi fare trattamenti. Esatto, esatto. Mi sono dimenticata di dire che ci sono i trattamenti. L'ala sinistra è dedicata a tutti i trattamenti personalizzati e anche qui spaziamo davvero in tanti contesti perché abbiamo diverse persone che fanno Reiki di diverse scuole quindi si può sperimentare anche un tipo di energia diverso a seconda della provenienza. Abbiamo persone che fanno i bagni sonori, abbiamo persone che fanno i trattamenti con il diapason, abbiamo persone che fanno la iurveda, il cranio sacrale.